Uomini e donne, Federico Dainese confessa, Federico Nicotera non si è più fatto sentire con me, forse è colpa di Carola. Federico Dainese e Federico Nicotera sono stati compagni di trono durante questa edizione di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 è condotto da Maria De Filippi. I loro percorsi però sono stati ben diversi, il primo ha scelto di abbandonare in corsa. Il secondo è uscito mano nella mano con la sua corteggiatrice, Carola Carpanelli, con la quale ad oggi convive felicemente, a distanza di qualche mese dalla sua uscita di scena. Dainese ha raccontato come vanno le cose a Blasting News, dicendo si è ancora convinto della scelta fatta. Dainese ha ammesso di essere rimasto in contatto con la redazione. Anche il rancore nei confronti di Gianni Sperti sembra essersi risolto. Tra i suoi ex compagni di trono, Federica Aversano, Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Con quest'ultimo, in particolare, ci sono stati strani silenzi. A proposito del Trono Over, invece, ha le idee ben chiare sui protagonisti principali. Federico ha poi parlato di Temptation Island del GF Vipotto, senza escludere nessuna possibilità. A proposito del GF Vipotto, senza escludere nessuna possibilità.